Ciao a tutti ragazzi e bentori sul canale, come va? Spero che state bene, che stia trascorrendo una splendida giornata è ora di parlare di Torino-Inter, partita finita ieri per 1-1 e devo dire che questa è una partita veramente ricca di spunti, sia da una parte che dall'altra però prima di andare a nocce la questione, soprattutto per parlare degli aspetti negativi e positivi di entrambe le squadre vi invito come sempre a sciorleccare il video, iscrivervi al canale e attivare le campaniche notifiche l'unico modo che avete è per rimanere sempre aggiornati sulle news del canale in merito ai video che vado a pubblicare veniamo però alla partita con il gol di Bremer e il gol di Sanchez negli ultimi minuti al 93 Allora, partiamo dal Torino, il Torino che sicuramente questo risultato non renderà felice i tifosi del Toro 1-1 che fondamentalmente non va bene a nessuna delle due squadre perché comunque l'Inter vede la distanza con le inseguitrici a sottigliarsi il Torino, anche perché l'Inter si è anche mangiato all'ira di Dio, di gol il Torino, idem con patate, che si è mangiato i gol assurdi anche perché Brecalo, mamma mia, Brecalo si è mangiato un gol più che mangiato è doveva tirare prima c'è lo spazio, tira no, due te dribbling e si è perso ma soprattutto perché per l'ennesima volta il Torino perde i punti negli ultimi minuti e questo è un grande limite di Uric io ho detto già in un video precedente deve evolversi, deve abbandonare questa sorta di filosofia che non cambia un cavolo di modulo neanche pagarlo oro perché così i punti li perdi non sempre ti può andare bene se c'è la necessità di dover cambiare anche un modulo, anche di metterti con la vera difesa 5 quindi non con voi Vodessi in Go che mi vanno a spingere ma magari al posto Izzo lo metti magari come esterno in una difesa 5 che magari ti è un po' più basso devi evolverti devi evolverti un po' bega che è raccato di ritmo devi metterti a ritmo in campo però comunque un tonio che ha giocato molto bene mi è piaciuto l'Inter è stata messa in difficoltà nei due triangoli laterali nei due triangoli laterali del Torino per dire quelli composti da braccetto centrocampista centrale e esterno offensivo o meglio scusate tra esterno di centrocampo centrocampista centrale esterno offensivo nella fattispecie a sinistra Volvo da Mandragora e Brecalo mentre sulla destra Lukic, Singho e Pobega ovviamente la parte di sinistra era molto più sollecitata perché comunque Brecalo è molto più offensivo di Pobega già più volte ho detto che Pobega è il trequartista tattico quindi che magari fa un gioco un po' più di contenimento rispetto a quello che fa Brecalo però veramente un tonino che mi è piaciuto quello che gli è mancata è la finalizzazione perché comunque ripeto certi gol se li sono mangiati clamorosamente Brecalo secondo me ha un gol sulla coscienza perché quando sei da solo davanti a Andanovic sei defilato c'è l'avversario che ti ha un metro e mezzo dietro calcio in porta non tentare il dribbling e poi un altro e poi un altro e poi si butta Gosens che giustamente visto il risultato finale esulta perché ha arrivato il pallone fuori dal campo e poi la qualità è in attacco Sanabria quel pallone deve tenerlo non può perdere in quel modo se ci fosse Dovelotti non l'avrebbe mai perso quel pallone l'ha perso da fighetta e poi ti può capitare che l'azione si sviluppa che magari c'è una piccola disattenzione difensiva e Sanchez se la butta dentro ma l'errore primario è solo fatto da Brecalo per quel pallone andava a mandare fuori proprio senza pensarci due secondi vediamo poi l'Inter un Inter fondamentalmente un po' sotto tono secondo me che è risentito dell'assenza di Brozovic quindi è il motore del centro campo però comunque tutta l'Inter non ha giocato benissimo perché comunque Dzeko ha fatto l'assist però anche lui un po' sotto tono un Martinez idem con patate che aveva fatto presagire tanto di buono nella scorsa partita invece in questa qui poco niente un Barella che è in calo di forma un Perzic che forse sta accusando un pochino la stanchezza comunque in difesa mancava De Vrij e il terzetto Skriniar De Vrij bastoni e quello titolare Ranocchia insomma ha fatto quello che poteva fare ah un'altra cosa del Torino faccio domani di cosa del Torino ma quei paratoni di Berisha li avrebbe fatti secondo voi Minkovic-Savic? non lo so onestamente però un Berisha appunto che ha giocato benissimo fenomenale un Andanovic qualche bella parata e qualche picco indecisione comunque fondamentalmente ai punti secondo me il pareggio è anche giusto il pareggio è giusto ma quel rigore ragazzi secondo me grida vendetta grida vendetta perché in primis non puoi pensare in quel modo e di passare al traversario cioè tu puoi prendere anche la palla ma se in mezzo tanto piede la palla ci sono le gambe forse prendi anche le gambe quindi la palla puoi anche prenderla ma le gambe le prendi prima però vorrei dire questa cosa ho avuto la sensazione che il non rigore si sia basato su una votazione dell'arbitro in campo perché vi ricordo la regola il VAR non può intervenire se l'arbitro che valuta direttamente dal campo se l'arbitro ha visto il fallo e ha fatto il gesto con la mano così come dire l'ho visto alzati può intervenire il VAR qui è un po' una piccola postilla bisognerebbe vedere la cosa perché ok se succede fuori dall'area magari va bene quindi la votazione dipende dall'arbitro e quindi se vede e valuta male non può intervenire il VAR ma in area è considerato come palese errore come errore evidente serve veramente da leggersi il regolamento e me lo andrò anche a rivedere perché onestamente mentre parlavo facevo la mia digressione mi è venuta questo questo piccolo pensiero in testa è da vedere sta roba perché qualora ci fosse o meglio qualora il VAR può intervenire su in questo caso un fuoco di rigore netto o in decisione sbagliata ok può intervenire ma se l'arbitro ha giudicato l'episodio in un certo modo anche se in area ma il VAR non può intervenire allora lì ci sta nell'ottica il confermare la tua decisione secondo me è sbagliata perché secondo me quello è la rigore tutta la vita ovviamente però ripeto nell'arco generale la partita gol mangiati una parte gol mangiati all'altra e ripeto tutte e due le squadre sono state delle polle clamorose l'Inter per un discorso che si è mangiata pure la scorta di panettoni di Natale il Torino perché per l'esima volta gioca bene però da polli da polli clamorosi prendono gol negli ultimi minuti ovviamente tifosi del Torino e non fatemi sapere qui sotto e dell'Inter e non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate vi invito sempre a iscrivervi al canale attivare la campagna delle notifiche ovviamente lasciare un abbraccio al video e ci vediamo quindi al prossimo video vi mando un abbraccione ciao ragazzi a iscrivervi al canale